Forse c'è avuto qualche paio di tempo per capire che un punto è sempre importante farlo, se non si riesce a vincere è giusto portare a casa comunque un punto, che fa sempre comodo per la nostra salvezza e per i nostri obiettivi. Abbiamo lasciato qualche punto per strada, quello si sa, è il nostro rammarico, siamo usciti però finalmente a portare a casa a questo punto in una trasferta comunque difficile, un campo difficile. Sto bene, sono rientrato, sto bene, un mese ho saltato cinque partite alla fine, ho stato fuori un mese qualche giorno, però sono contento di essere tornato e di aver aiutato la squadra e di parte di me ci sono ancora tantissimi da giocare, quindi è importante che tutti stiamo bene e che ognuno, anche con i pochi punti che gioca, riesci a dare il suo contenuto alla squadra in maniera positiva. Credo che nel calcio di oggi l'importante è saper fare sicuramente più moduli, abbiamo iniziato con il 4-3-1-2 e poi il mese sarà puntato per passare questo 3-5-2, che ci dà sicuramente più fase, nel senso che ci dà più sicurezza in fase difensiva e riusciamo a partire, a spingere con i quinti che devono fare un ottimo lavoro sia in fase difensiva che in fase offensiva. Abbiamo giuntato 3-5-2 le ultime partite, un modulo che personalmente mi piace tanto, per ogni caratteristica e prefisco fare il quinto, sia in un terzino comunque offensivo, e speriamo di dare probabilità con questo modulo e di riuscire già dalla prossima partita a raccogliere quelle punti. Come squadra ci siamo, si vede, le altre partite ci siamo sempre state come squadra, creiamo le nostre occasioni, alcune partite le creiamo di più, le altre le creiamo di meno, però siamo questi e dobbiamo sicuramente raccogliere, come ripeto, i più punti possibili. Personalmente conosco due persone che giocano nel gruppo, i miei ex compagni di squadra, e hanno una buona rosa pure loro, hanno giocatori di categoria, poi non so se ci sia un gruppo di là o no, però ora vedo che si stanno riprendendo, anche con l'arrivo del Pao Mister, quindi qui sarà una buona tostissima.